Torna anche quest'anno in via Montebello nel quartiere Santa Venera, l'area del Natale. I residenti della zona, infatti così come ormai tradizione, hanno allestito il presepe nella piazzetta della via adornandola con luci colorate per regalare lo spirito natalizio a uno dei quartieri più antichi della città. Ad accogliere il presepe all'ingresso della via, una stella cometa che illumina così le sette tele che adornano i palazzi che si affacciano nella piazzetta. Accanto alla natività e ai remaggi, gli zampognari e gli antichi mestieri praticati all'interno del quartiere, dal vasaio al fabbro al calzolaio. A rendere l'atmosfera più suggestiva i tanti alberelli di Natale, formati da luce, che a loro volta costituiscono un albero più grande e gli auguri di buone feste del quartiere alla città. Un presepe che i residenti intendono arricchire il prossimo anno coinvolgendo tutta la via. Sì, non è il primo anno, magari quest'anno ha più risalto, ma loro da sempre, gli amici di via Montebello, si sono prodigati in questa realtà che per noi come quartiere dà un significato forte. Quest'anno si ha la grande gioia di vederlo così nella sua ampiezza, anche se gli amici Peppe Pistone, Enzo e tutti gli altri ci dicono che dal prossimo anno sarà ancora più grande e si cercherà di intraprenderlo per tutta l'intera via Montebello. Ne approfitto di questa vostra presenza per ricordarvi anche che qui dentro la parrocchia Santa Croce si può assistere e vedere un altro gran presepe che la comunità parrocchiale ha voluto fare e che dobbiamo dire grazie al vecchio parroco, padre Michele Alaimo che già iniziò questo presepe e che adesso è stato ripreso, quindi per tutti coloro che verranno nel nostro quartiere a visitare il presepe di via Montebello possono anche fare una cappatina nella nostra chiesa e vedere anche quest'altro presepe. Grazie e auguri a tutti.